Oggi è un momento molto importante per la nostra regione perché presentiamo un'operazione culturale credo di grande spessore e anche di capacità di far capire la ricchezza di alcuni nostri beni che non sono sufficientemente conosciuti, che sono nelle nostre città di Garcelli Novara Varalla, credo che meritino un'attenzione superiore, il nostro fine è appunto riportare questa attenzione.